L'ordinanza è stata firmata ieri sera. Il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, ha disposto una serie di restrizioni valide da sabato 3 a lunedì 5 aprile, provvedimenti che si aggiungono a quelli della normativa nazionale che prevede per i giorni della Pasqua la zona rossa in tutta Italia. Orlando ha disposto il divieto di accesso pedonale in tre aree della città tradizionalmente affollate nei giorni di Pasqua, all'interno del parco della Favorita, dove le auto potranno comunque transitare regolarmente senza possibilità di parcheggiare, in tutte le spiagge del litorale, da Sferra Cavallo ad Acqua dei Corsari e sul prato del Foro Italico, dalla Cala a Villa Giulia. Il contenuto dell'ordinanza è stato concordato con il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Restrizioni necessarie e urgenti fanno sapere da Palazzo delle Aquile per evitare ogni forma di assembramento nelle aree pubbliche. Il trend dei contagi continua a richiedere massima prudenza. Anche ieri la provincia di Palermo è stata quella che ha registrato il maggior numero di nuovi positivi in Sicilia con 346 casi. L'ordinanza prevede la possibilità di proroga o comunque di modifica in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica.